I nuovi positivi sono in costante aumento. I posti letto covid sia dell'ospedale Santo Stefano che della struttura intermedia alla Melagrana di Narnali segnano quasi il tutto esaurito. Sono ore frenetiche quindi per la Stoscana Centro che sta predisponendo un piano di potenziamento dei posti covid sul territorio pratese. I margini di manovra ci sono ma bisogna fare presto. Le linee di intervento sono molteplici. Intanto ai 30 letti della Melagrana, già tutti occupati, ne saranno aggiunti altri 10. Poi metà dei posti di cure intermedie allestiti al vecchio ospedale nella Palazzina Ovest saranno convertiti in covid. Sono una ventina. La situazione più delicata è al Santo Stefano dove i 40 posti di media intensità sono tutti occupati e i nuovi ricoveri sono stati dirottati nel reparto di malattie infettive. A oggi i posti occupati dai pazienti covid sono 5 su 10. Stiamo lavorando per attivare un modulo di altri 10 letti nelle medicine, afferma Giancarlo Landini, direttore delle specialistiche mediche della Stoscana Centro, ma mancano medici e infermieri. Per questo a breve interromperemo le attività chirurgiche e programmate. Gli ambulatori si va verso questa direzione. Migliore è la situazione della terapia intensiva del Santo Stefano che al momento ha occupato 13 letti su 20 e nel caso di aumento dei pazienti è pronta per l'eventuale attivazione di altri moduli. Dovrebbe aiutare anche la riapertura della terapia intensiva covid di Empoli con 10 posti letto disponibili di cui 4 già occupati. Quindi attualmente al Santo Stefano sono ricoverati 58 pazienti covid. Grazie a tutti.